Buongiorno ed ecco che è arrivata la Tegolona. Speravamo e dicevano che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per Teo Hernandez e in effetti non è una cosa lunghissima ma sufficiente l'infortunio che ha subito al lungo adduttore destro, stiramento, c'è il comunicato, c'è la notizia, stiramento e il giocatore dunque Teo Hernandez dovrà saltare la partita di Empoli sperando poi di recuperarlo per il match che vedrà il Milan opposto al Chelsea là a Stanford Bridge. Una notizia che non ci aspettavamo perché il giocatore è uscito tranquillamente, non ha accusato nulla, non si è neanche toccato l'aduttore durante la partita contro la sconfitta purtroppo persa contro il Napoli e poi però aveva sentito qualcosa, è andato in nazionale, sono stati fatti degli approfondimenti questa mattina ed ecco l'esito, stiramento per Teo Hernandez. A proposito, andiamo avanti e poi leggerò dei commenti, stavo dicendo per quello che riguarda invece buone notizie Calabria non si tratta di lesioni quindi il giocatore sarà sicuramente recuperabile per il match contro l'Empoli, la prima partita dopo la sosta. Per quello che riguarda gli altri giocatori un sanitario del Milan, un responsabile dello staff sanitario è andato in Belgio per capire le condizioni di origi ma sembra e quindi vedremo come si evolverà la situazione, invece non ci sono buonissime notizie per quello che riguarda Rebic, purtroppo l'ernia non è ancora rientrata del tutto, il giocatore non sta ancora bene e quindi rimane il dubbio di Rebic, chiaro che dopo la sosta, dopo la squalifica rientra Leao però siamo sempre un pochettino scarsi a livello numerico, per fortuna c'è quell'immenso giocatore che è Giroud che ci permette di supplire a queste assenze, c'è da dire però che il Milan poi ha un trittico, anzi quattro partite, Empoli, Chelsea, Juventus, Chelsea dove servirebbero tante forze fresche, speriamo che qualcuno tra Origi e Rebic possa recuperare ma indubbiamente questa non è una situazione diciamo che lascia tranquillo sia il Pioli che l'ambiente che i tifosi del Milan. A proposito di tifosi del Milan, oggi mi hanno rimproverato, ho tirato le orecchie anche gli amici della Corax, rispondiamo un po' ai commenti, allora rendiamo partecipi i tifosi e esco i loro commenti, per esempio Gennaro Pasquale Fiocchi dice ma ballò tu re perché quando poi ieri sono tutti commenti al mio video di questa mattina sulle condizioni di Teo non si sapeva, sapevamo che non fosse una cosa grave e in effetti non è una cosa grave perché il giocatore salta solo una partita ma indubbiamente la lesione c'è e allora Pasquale Fiocchi, Gennaro Pasquale Fiocchi mi dice ballò tu re ed è un tema che tocca anche Cristiano Baldini, UMAS da tutti sul tema Teo Hernandez, Raffaello Raffa dice dobbiamo intervenire a gennaio, ecco però riguardo a questo punto volevo sottolineare una cosa, ballò tu re che è stato vedo che non è assolutamente considerato dopo averlo visto una partita e mezzo se non due partite e mezzo. Ha commesso una sbavatura ma anche altri giocatori titolari di questo Milan nel corso della scorsa stagione di questa hanno hanno avuto delle sbavature hanno commesso degli degli errori come quello di Ballotouré che si è un po' attorcigliato nel derby dell'anno scorso ma Ballotouré è ancora una totale incognita per i tifosi del Milan perché l'hanno visto una due volte io non è che perché un giocatore del Milan deve essere un fenomeno ma il naturale sostituto di... se no vendiamolo perché se qualcuno propone di mettere Dest che oltretutto non è un sinistro potrebbe giocare anche lì con Calabria a destra no si mette Ballotouré che ha le stesse caratteristiche caratteristiche tipologia di giocatore di Teo Hernandez. Chiaro la qualità è diversa ma non so di quando perché si venga considerato di infima qualità un nazionale senegalese che va al mondiale e l'Italia non va lui la sua nazionale titolare va ed è oltretutto un giocatore che ha vinto anche la Coppa d'Africa quindi non voglio difendere vediamolo ma non vediamolo mezza partita chiaro che un giocatore che rientra da tantissima panchina avrà dei problemi avrà delle difficoltà ma tacciare Ballotouré costato oltretutto 4 o 5 milioni se noi andiamo a prendere un altro difensore di fascia andare a prendere un nazionale ti costa 20 30 40 milioni di euro vai a prendere uno da 4 o 5 certamente è inferiore a Ballotouré andiamo a prendere un italiano quale italiano a 4 o 5 un giocatore di serie B ti offrono a 4 o 5 certamente non di serie A perché quando ti presenti sul mercato della serie A per un Milan che potrebbe cercare un quasi titolare ti vogliono dal 10 in più in su quindi vediamo Ballotouré consideriamo esaminiamo la sua il suo rientro la sua prestazione e poi non riesco a capire io non dico che è forte ma non lo so giudicare non capisco quelli che lo giudicano non forte con che criterio lo possano giudicare è un giocatore da che ha giocato poco ma è un nazionale senegalese quindi giocherà lui spero che giochi lui spero che non metta best che invece può eventualmente prendere il posto sulla destra e quindi ieri qualcuno anche ieri nei commenti mi parlava del anche della della difesa la difesa adesso chiaro che c'è questo problema di Teo Hernandez che è una potenza per il Milan Ballotouré ha le stesse caratteristiche vedrete che spingerà come Teo Hernandez chiaro che avrà un po di ruggine però dato che dovrebbe essere convocato per la parita del Senegal mi auguro che possa giocare e rodare la condizione questo impegno della nazionale per Ballotouré arriva in maniera perfetta per il Milan e per Ballotouré situazione perfetta può togliersi la ruggine giocare e lo aspettiamo e lo aspettiamo ovviamente con interesse e vogliamo vedere la partita con Senegal che Ballotouré sperando che giochi titolare come penso ci restituisca andiamo anche ho parlato oggi nel video di stamattina dell'uscita oggi del mio podcast sul su Pato su Ronaldinho e su e su Beckham sono contento che molti abbiano esaltato esaltato il Pato è uno dei più forti giocatori sono d'accordo con chi mi sottolinea che Pato è stato uno dei giocatori più forti che il Milan abbia avuto in questi anni a livello di attacco solo sfortunato sfortunatissimo Diego Onaresi mi dice ma no nel tuo podcast perché non parli anche dei primi scudetti della storia calma questo è il sesto podcast che parlerà del di Pato Ronaldinho e Beckham quello uscito oggi che potete ascoltare su Spotify con la voce dei mia nei gol di Ronaldinho di Pato e di Beckham ma poi ci sarà il settimo il settimo sulla vittoria dell'ultima della ultima Champions League e poi a scalare arriviamo a 30 e quello di 30 è la storia del Milan di Kilpin quella del 29 i primi scudetti quella del 28 la scissione dell'Inter e arriviamo fino a lì nel giro di settimane e settimane rivivremo tutta la storia del Milan per quello che riguarda poi la settimana Pioli ha pochi giocatori da allenare ha detto nell'ultima conferenza stampa 6-7 e quindi vedremo come seguirà come potranno eventualmente intensificare la preparazione i giocatori che sono giocano meno sono tante critiche per Dest aspettiamo ancora lui qualcuno mi ha scritto sì però Vranx ciao lo stesso Adli che cosa ce ne facciamo e poi verranno tutti anzi speriamo che possano essere inseriti o qualcuno si è lamentato per il Franco D'Ambrosio non cambia mai ecco sì vediamo no è Cristiano Baldini che parla di Teo e dice che non non ci sono cambi Pioli questi infortuni a causa dei pochi cambi che effettua Pioli e Pioli in questo momento serve consolidare la classifica con qualche rischio quando ha provato a far effettuare qualche qualche rotazione non è che abbia portato in questo momento che che giocatori di questi nuovi dovevi mettere contro il Napoli che giocatori ha messo la formazione base chiaro che poi cercherà di inserire ha inserito Pobega che è diventato ormai un titolare di questo Milan ha messo un paio di volte Dest ha messo una volta Vranx ha messo qualche minuto Adli ma ovviamente le rotazioni i turnover devono essere messi con intelligenza senza snaturare troppo la squadra è un lavoro difficile è un lavoro difficile e Pioli deve essere bravo a riuscire a inserire ma mi sembra che Pioli fino adesso un aggettivo che merita è sicuramente bravo Anto mi dice riferendosi al mio podcast non si vive di passato e chi vive vuol dire che si ha paura del presente del futuro se si vive di passato non è vivere di passato ricordare Pato come ho sempre detto il Milan non vive di ricordi ma è un club che vuole creare ricordi e dunque non sono d'accordo si rivive belle sensazioni belle emozioni adesso ho messo pensate nel podcast numero 10 ho messo la il gol di Pippo Inzaghi il primo gol nella storia ricordate contro la Fiorentina 5 a 2 per il Milan e il retropassaggio di Pierini si infila è come un veloci raptor Pippo Inzaghi supera il portiere e mette in rete per la rete per la una delle reti che hanno portato il Milan a vincere 5 a 2 la prima rete in quell'angolo dove poi ha esultato per il gol che poi è stato assegnato a Thomasson in quell'angolo dove è assegnato l'ultimo gol contro il Novara questo è Pippo Pippo Inzaghi ebbene sapete chi avevo come seconda voce su Milan Channel a commentare la partita per dire come si sono evolute le cose ma forse sono andati indietro invece che andare avanti sapete che avevo come seconda voce Manuel Rui Costa avevo chiesto avevamo chiesto noi di Milan Channel i dirigenti di Milan Channel di poter avere Manuel Rui Costa a commentare la partita ha avuto come il Musagete come seconda voce una cosa meravigliosa chiudo ricordando dopo aver purtroppo dato la notizia che Teo Hernández contro non ci sarà contro l'Empoli speriamo che recuperi bene per il Chelsea per il tempo fondamentale anche sul piano dello spettacolo dicevo chiudo ricordandovi di scaricare l'applicazione di Numer Diez numero Diez numero Diez un'applicazione moderna giovane statistiche squadre giocatori campionati di tutta Europa campionati di tutta Europa primavera calcio femminile e poi soprattutto tante notizie e oggi oggi una bello sono contento e sono d'accordo con Mancini non eravamo d'accordo con Mancini per quello che riguarda la non convocazione di Calabria ma sono contento che abbia convocato Provedel che ho ammirato soffrendo che ho ammirato soffrendo nella bellissima prestazione della vittoria dello Spezia contro il Milan nel 2 a 1 ma fece parate incredibili sono contento del senato nazionale e sono d'accordo con Mancini per la convocazione di Vicario e sul numero Diez di oggi c'è proprio l'intervista di Provedel e poi anche le ultime notizie di giocatori che vengono e vanno dalla nazionale per infortuni uno di questi Politano ma voglio anche sottolineare appunto la una intervista Provedel e poi parlano anche sul numero Diez di Vicario secondo me è un grandissimo portiere se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di Carlo per legati e attivate la campanella